No 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 Si no Oh no Ok forse questo giro turistico ah ok Che ne so io Back to main menu Questa qua si è scritto new game ho fatto Challenge mode Oh porca trovo E qua cos'è? Oh porca oh porca Oddio 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 Sono vivo? Non devo andar di qua? Ma così subito Una cosa super difficile ma qua c'è un altro percorso però Attenzione tu easy Oh voglio quello Vabbè Vabbè Vaffanculo ragazzi Che cosa li abbiamo combinato qua questi? Oddio Oddio Oh porca Mamma mia Mamma mia Vedi che serve sparare? Allora aspetta un attimo Ma fai così Ma fai così Ecco vedi lo sapevo cazzo Ecco vedi lo sapevo cazzo Che merda ragazzi Ma perché travi? Cioè queste erano i miei primi ranni Dove devo andare? Dove devo andare? Che ansia Che ansia Merda ragazzi Sì Ogni salto è tipo What the fuck? No Mamma mia Parca puttana Oh comunque cazzo Per essere la prima rana Ma dove cazzo sono arrivato? Secondo me è tanto eh Io non so quando si faccia però Non lo conosco sto gioco Per me sono arrivato abbastanza in rana Cioè adesso è morto subito ad esempio Visto? Va bene va bene va bene Eh Not bad Ok Allora Ok qual'è il tuo vero? E' lo su alto F4 Allora ragazzi io Qua non so perché Cioè secondo me qui si taglia un sacco di pezzo Vero? Sì Però lì c'è il save tra l'altro Non riesco a prenderla però Ok Ok Oddio Madonna Quanto era possibile una roba del genere Porca puttana Ciao Zanar Benvenuto Oh cazzo Le faccio Le faccio Sì Eh questo qua mi sta rilassando di più di Jump King Perché almeno ti premio un po' di più Nel senso che ti fa arrivare un po' più lontano Jump King invece Si rompe il cazzo Poi magari anche su Jump King è ok eh Eh però Penso Burca non l'ho preso Ma quanto vanno veloci questi polli Ma poi dove cazzo devo mirare? E anche la mira deve pensarci bene Mi hanno detto che è così Ok no 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 Ok ho sbagliato tasto Col control si fa Questa roba qui Però non so quando sia utile in realtà Scusami che salto ero? Ma come salti zio? Ma cos'era sto salto? C'è qua Vabbè normale Venuto in aria Cioè la prima runse è andato meglio Di queste cioè Un po' di culo Un po' di cose E hanno contribuito Ufff Mio 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 ho preso L'ho preso raga l'ho preso Qua devo solo prenderlo così tipo Mamma mia Andare avanti Andare avanti Ok avete ragione Merda Ma lì c'è il mio cadavere tra l'altra Ma lì c'è il mio cadavere tra l'altra E come faccio qua? Perlin Ok Così Ma l'ho fatta di brutto raga Eh Ci siamo eh Urca 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 Oh Madò Urca Madonna ragazzi Sì Altro che Ma non so cosa c'è di qua però E' nuova Urca 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 Dove dobbiamo arrivare, là? Ma è una cazzata, tipo, però. Ah no, cosa c'è là? Perciò. Questo dove spara? Spara di là. Non è che mi fa andare da qualche parte? No, pensavo mi facesse partire in cielo, tipo. Ok, no. Manno tutti il barretto e il fenomeno. Madonna, l'incluirà, disintegrati. Oh. Oh. Ok. Ok, ci siamo. Ok. 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 Forse non dovrei essere vivo. Ok. Dai, che mi vogliono distruggere qui. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Buongiorno. Cazzo, ragazzi, eh. Cazzo, ragazzi. Porca puttana. Bello comunque, cioè, mi sta piacendo molto. Mi sta piacendo molto. Noi siamo arrivati anche a un buon punto, dai. Perchè non lo colpisce, cazzo? Vabbè, prenderemo quello dopo che è il migliore. Tanto qua ci si arriva in due secondi. Ho colpito con la mia stessa gallina o sbaglio? Ma cosa mi sta colpendo? Ma il checkpoint? Eh, non si riesce a prendere molto per. Cazzo, a questo punto è difficile. Ho bisogno di fare dei bei salti precisi. No, non ci credo. Come mai non mi ha saltato bene? Va bene. Vai, ragazzi. Ultimo tentativo. Poi torniamo a fare altre cose. Però comunque, dai, è simpatico. Mi piace. Ultimo tentativo, signori miei. Tacchete. Ok, ci siamo. Ok, saltone, saltonone, super saltonone. Ultimo tentativo, docchi chiusi, via. Ok, allora. Però ho partito. Ok, va bene. Urca. Saltone. E saltone uno. Bene. Alza, alza, alza quella merda. Alza quella merda, ok. Via, alza quella merda. Apri sta porta di merda. Non così. Ok. Bene, poi. Ultimo tentativo. Non bisogna esitare. Va bene. Ho esitato troppo. Va bene, ragazzi. Devo dire niente male. Mi sono piaciuti. Secondo me siamo andati alla grande. Potevamo fare meglio. Potevamo fare meglio. Non importa. Secondo me non sono stati male questi due giochini da fare così adesso, mentre non si potevano giocare le roll. Ora. Ma siamo in just chat, in realtà. Vabbè. Va bene. Tanto, cioè, a quest'ora nessuno si lamenterà. Tanto ci sono pochi streameri in generale. Allora, signori, 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 signori. Andiamo a vedere se funziona League of Legends. Allora, signori, 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 signori.